Siamo qui oggi per la quarta edizione della Divisa Tidona, un evento che è stato creato da noi della Croce Bianca di Teramo e che ci vede impegnati nella donazione del sangue. Quest'anno abbiamo coinvolto tutte le consociate della regione, quindi anche in tutte le altre province ci sono soci Ampas che doneranno il sangue, vecchi donatori e anche nuovi donatori che per la prima volta donano il sangue e iniziano questa bellissima avventura. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere oltre 100 donatori, tra vecchi e nuovi. Speriamo di continuare a crearne sempre di più e a sensibilizzare maggiormente la cittadinanza sull'importanza della donazione del sangue. Perché così con un piccolo gesto diciamo riusciamo a fare tanto, magari per una persona a cui serve poco, anzi serve tanto, noi doniamo poco e facciamo tanto. Ciao! Ciao 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 Ciao